ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono lovegamer ed oggi siamo qui in compagnia di una nuovissima applicazione cambia facce che si chiama msqrd infatti ragazzi avevo stavo cercando anche perchè a mia sorella gli piace fare questa cosa di cambia facce stavano diverse applicazioni su cambia facce sempre però nessuna è realistica allora mi sono messo in cerca di questa applicazione e ho trovato questa applicazione che è uscita da poco su android che si chiama msqrd molto interessante e davvero realistica quindi oggi vi porto questo video con questa applicazione ragazzi come sempre vi invito a passare dalla mia pagina instagram e a inserirvi e iscrivervi e iscrivervi anche al mio canale perchè siamo arrivati a 22 iscritti bene andiamo così e a 50 arriverà lo speciale infatti ho già trovato cosa fare a 50 non fate caso ai miei capelli ma mi sono svegliato alle 10 vabbè a parte questo ragazzi vi invito anche a lasciare un bel pollice in su e a scrivere anche qualche bel commento sia negativo che positivo così io potrei o continuare a fare delle cose che vi piacciono o aggiustare delle cose che non vi piacciono quindi detto questo iniziamo subito ok perfetto allora l'applicazione è questa msqrd questa che sto muovendo qui bene allora è disponibile su play store infatti qui basta scriverlo msqrd basta cercarlo eccolo e ce la troviamo lo scarichiamo ecco allora entriamo dentro msqrd ok perfetto allora ci sono varie opzioni questa opzione qui non la possiamo fare adesso perchè dovremmo essere in due e praticamente scambia le facce io l'ho provato con i miei genitori o con i miei amici è fantastico ragazzi qualcosa di impressionante possiamo fare gli altri oddio allora questa qui è la mia preferita perchè mmm pei buffi allora ragazzi con tutte le facce che ci sono qui proveremo a fare la nostra intro allora quindi 3 2 1 bello tu ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono lol gamer versione anni 80 e ho dei baffi davvero sexy che fanno su e giù insieme al cappello il cappello è abbastanza realistico perchè realistico 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 perchè si alza la testa tipo si vede pure lì sotto questo qui non mi piace molto perchè c'è tipo un altro po' più grande la mia testa il cappellino non mi piace molto il cappellino di facebook no questo qui invece ragazzi è davvero figo potremmo avere oh questa faccia qui ehi bello oppure questa qui no possiamo avere solo questa faccia no perchè vabbè poi c'è questa scimmia non è la mia preferita ce n'è un'altra ci dovrebbe essere un'altra di scimmia e allora quindi intro ah no abbiamo fatto l'intro con questa 3 2 1 bello ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Jimmy Kinnell sta scritto sopra e sono oh yeah na 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 bene poi c'è questo qui il fiorellino davvero bello aspetta ecco ecco figo questo fiore è davvero figo questa qui è bella mi piace bella a tutti ragazzi 3 2 1 bella a tutti ragazzi benvenuti ok rifacciamo 3 2 1 bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono lolgamer ed oggi sono lupetto sono bello oh yeah passiamo alla prossima faccia c'è un barbone un barbone oh yeah a parte che la barba arriva in ritardo cioè sembra tipo che cacchio si è mossa non è figo però avere la barba così oh yeah oh yeah figo bene che cacchio questa è realistica forte siamo siamo indemoniato oh yeah oh yeah questa è fare la intro proprio spaventa iniziare il video così 3 2 1 bella a tutti ragazzi se andate la faccio un attimo 3 2 1 bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ed oggi siamo qui per giocare tutti insieme si oddio fa paura ah questo no non mi piace molto questa faccia oh 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 non è la mia preferita no non mi piace molto più bella l'altra scimmia oddio questa qui è troppo fria cioè tipo iniziamo il video così bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video cioè proprio epic fail bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video si allarga la mascella e oggi siamo qui su msqrd ci siamo passiamo alla prossima questa non mi piace perché non ha senso questa qui no ragazzi no perché cioè si vede proprio che è un montaggio questa qui anche si vede proprio che è un montaggio questa qui è figa ragazzi oh yeah oh yeah vi faccio una foto poi la vediamo a vedere bene ragazzi la foto l'abbiamo fatta sempre io sono così con dei baffi sexy così siamo la intro bella a tutte ragazze bella a tutte ah spero qui ci vuole proprio una voce un po' più swag bella a tutte ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono sono Jimmy Turner di fantagenitori con i baffi sono cresciuto lo so grazie oh yeah oddio questa qui è impressionante anche se si vede proprio che non è che è un montaggio si vede si si vede che è un montaggio però aspettate ma forse è un problema di faccia no no è proprio così no a me non mi piace molto questa faccia questa qui invece mi hanno fatto un occhio viola invece questa è l'ultima faccia non molto realistica ma fa paura vediamo quindi bella a tutti no una voce più spaventosa bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui per uccidervi ok ci può stare no le mie preferite ragazzi allora sono al primo posto questa qui troppo figa oh yeah al secondo posto c'è anche questa che c'è è figa tipo siamo tipo un pazzo folle mi piace anche la scimmia ciao e mi piace anche questa ragazzi magari se volete altri video del genere su msqrd vi porto anche questa questa cosa qui dove se trovo tipo un'immagine lo faccio però non ho un'immagine va bene vabbè se volete altri video su msqrd un attimo che esco dal scuso se volete altri video su msqrd allora ragazzi probabilmente il prossimo video ve lo faccio in compagnia di qualcuno così vi faccio anche vedere quell'altra opzione lì lo scambia facce l'ho davvero provato è figo perché tipo se hai un uomo accanto a te che lo fai cioè tipo tu invecchi e l'uomo accanto a te magari tu padre tuo zio non so ringiovanisce anche se c'è maschio e femmina diventa proprio una cosa strana vabbè bene ragazzi questo video per questo video è tutto su msqrd se ne volete altri di questo genere dai coppallicioni e quindi ci vediamo alla prossima e ciao ciao